Ciao ragazzo! Sì, proprio tu, spara panzato sulla sedia con una mano sul mouse e l'altra che ti penso a come il calzino del bassista dei reddotti. Tu lo sai di cosa hai bisogno. Anche noi musical prostitute lo sappiamo e costruire emozioni è il nostro lavoro. Dai, lasciati alle spalle tutti quegli anni di flaccidume. Guadagnati la vita che hai sempre desiderato. Compra anche tu il CD dei musical prostitute. Acquistato le PD musical prostitute, non solo lo riuscirai a sentire con qualità Danny di Ceaucescu tracce quali Donna con gli stivani o What About Pige, ma itererai anche il possesso di un dispositivo di alta tecnologia per svolgere tantissime mansioni quali poggiare bicchieri, sistemare il bilanciamento di altri oggetti, fare bella figura con tua sorella, giocare con il tuo cane, giocare con il tuo gatto, Giocare con il tuo pesce, Giocare con l'uceno di qualcun altro, Cosa aspetti? Vuoi fare la fine di quelli che comprano i CD di Vasco Brondi? Presto, vada Silvano, compra l'uceno. Musical prostitute. Un calcio in faccia all'altro. Lo dice il mensile donna vera, 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 quello che leggi dalla parrucchiera. Nelle 40 tu non ti piaci, fai contro l'X e perdi una taglia, ma c'è una cosa che...